A Crema si registrano notevoli disagi a causa delle lunghe code che si formano davanti al passaggio a livello di Viale Santa Maria, dove, in certi orari, le sbarre restano abbassate decine di minuti. Molti cittadini lamentano come le attese li costringano spesso ad arrivare tardi a lavoro o agli appuntamenti prefissati. Le polemiche sono indirizzate in particolare verso la costruzione del sottopasso tra via Stazione e via Gaeta, i cui lavori sono iniziati nel 2020 e negli anni hanno subito diverse battute d'arresto e, ad oggi, non sono ancora terminati. Io devo fare questa strada tutti i giorni, almeno due volte, e spesso la cambio, ne faccio un'altra perché quando si chiude è un disastro, c'è una coda infinita, è una follia, non è sostenibile. Spessissimo arrivo a lavoro in ritardo perché le sbarre stanno giù veramente troppo, non è possibile. 20 minuti, veramente, non si può andare avanti così. Quando il passaggio a livello è giù, ovviamente tutte le macchine sono ferme e c'è un problema anche di inquinamento in questo caso. Crea un bel problema, ma è già da tempo che si parla di questo problema, però vedo che non c'è soluzione, almeno fino adesso. Spesso succede che ci sono treni che non combaciano negli orari, quindi c'è da aspettare tempo perché l'altro treno deve arrivare e difficilmente capita che un treno attende in stazione il passaggio a livello viene sollevato in attesa che si avvicini quell'altro. Quindi spesso succede che rimangono fermi. Capita anche volte che il passaggio a livello, o meglio il treno passa e il passaggio a livello comunque per ancora parecchio tempo rimane chiuso. Anche questo non si riesce bene a capire perché. Il sottopasso doveva essere già aperto da circa un anno e siamo ancora in attesa dell'apertura. Probabilmente avverrà nei prossimi mesi, le ultime informazioni che abbiamo parlano di ottobre del 2024.